Attaccare la spina Siemens alla rete, controllare che i perni di serraggio della testata siano ben stretti, posizionare la leva dell'estrusione del gelato al centro del pernetto del pistone, inserire il perno nel suo alloggiamento in questo modo. La linguetta dell'estrusore deve stare verso l'esterno in questo modo. Prendere il coperchio in dotazione della macchina e l'agitatore della vasca, inserirlo bene nell'apposito perno del motore e posizionarlo in questo modo con la parte anteriore che si vede il LED rosso. Prendere il cavetto di alimentazione dell'agitatore e inserirlo nell'apposito alloggiamento, nel accensione della macchina. Spostare la levetta verso sinistra, in questo modo. Prendere la vaschetta ad accoglie gocce della macchina e inserirla nel suo alloggiamento. accensione della macchina. Spostare la levetta verso sinistra e avremo il display che si illuminerà dando delle misurazioni e dei parametri. spostare la macchina. Spostare la macchina.